Sei stanco di fare lunghe ricerche per trovare i biglietti Air EasyJet più economici? Ciao io sono Andrea del blog di viaggi vologravis.org e oggi ti mostrerò due metodi semplici e veloci per trovare tutti i biglietti Air EasyJet più economici in partenza dalla tua città. Collegati ad easyjet.com Clicca su info voli e poi su ispirami. Scegli la tua città di partenza, il periodo del tuo viaggio, se di solo andata, per un weekend, per una o due settimane, il budget che sei disposto a spendere ed eventualmente il tipo di viaggio che ti piacerebbe fare. Ti verranno mostrati tutti i voli esigenti più economici in base alle tue preferenze. Ti basterà scegliere la meta e procedere con la prenotazione. Passiamo ora al secondo metodo. Torna sulla home page di EasyJet, clicca su info voli e poi su trova il prezzo più basso. Scegli la città di partenza e quella di destinazione, EasyJet ti riporterà su un grafica bar i prezzi mensili. Cliccando su mese avrai poi il prezzo giornaliero e cliccando sul giorno i prezzi nelle varie fasce orarie. Ti basterà cliccare sul tuo volo preferito e procedere con la prenotazione. Ciao e buon viaggio!